Ben trovati amici di Cilento Channel, siamo in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista per il secondo appuntamento della rubrica Alimentazione e Salute. Questa volta parleremo di tintarella e degli alimenti che la favoriscono. Quindi il nostro dottore è qui con noi per darci dei consigli e dare dei consigli anche ai telespettatori che seguiranno questa intervista. Per avere un'abbronzatura intensa e uniforme su tutto il corpo abbiamo necessità di assumere alimenti come acqua, sali minerali, vitamine e quindi il consiglio che possiamo dare è sicuramente quello di bere molta acqua, molte verdure cruda o cotte a vapore e molta frutta soprattutto di colore giallo e arancione perché questi colori rappresentano una grossa quantità di beta carotene, carotenoidi e vitamina A che insieme alla melanina sono i responsabili. Come fare per mantenere questo colore secondo lei? Sicuramente il consiglio è di iniziare questo schema alimentare che abbiamo detto un mese prima almeno dell'esposizione al sole e di continuare per tutto il periodo dell'esposizione al sole. Possiamo dare anche un consiglio per proteggere la pelle, alimentarsi bene ma proteggere anche la pelle all'esposizione del sole? Sicuramente queste sostanze quali i carotenoidi e la vitamina A aiutano la bronzatura ma non proteggono dall'esposizione ai raggi solari quindi è buona norma utilizzare sempre una crema solare con un grado di protezione relativo al fototipo di ognuno. Possiamo dare anche delle indicazioni per quanto riguarda l'esposizione al sole? Sì, sono le solite insomma di non esporsi negli orari più caldi quindi preferire magari dalle 9 a mezzogiorno, dalle 16 alle 18. Quindi per lo spuntino al mare che cosa consigliamo? Credo che sicuramente il frutto migliore sia la bicocca perché come detto ha molta vitamina A però rappresenta anche un ottimo spuntino perché ha poche calorie però ha un alto potere saziante. E sicuramente contribuisce alla colorazione della bronzatura quindi per noi donne in particolare che ci teniamo così tanto. Bene, noi ringraziamo il dottor Andrea Ricci e ci vedremo per una prossima rubrica sempre qui su Cilento Channel.